con la pista ciclabile da parte qui però è rimasto la pista ciclabile che passa al di là che passa nel castellaccio e via cioè molto tratto di questo canale che stiamo facendo non avrà la pista ciclabile da parte proprio per non asperrare troppo troppo no e rimane più o meno così diciamo che il vantaggio il canale quando è nato c'era molto certamente bollate che andiamo anche novate e lo pedale sacco era tutto terreno agricolo quindi il canale progettato che portava 3.000 litri anche i ponti per i passaggi via rispetto a quello che passa adesso di 700-800 litri per e questo non vengono rifatti quindi si tratta di fare una ristezionatura abbastanza importante del canale esistente il progetto almeno io adesso vi vorrei già fatto un momento